Ed eccoci dentro al campanile e stiamo salendo. Mi sa che qua su si balla parecchio. Sì, gli aerodontoli ci sono, però qua su, come al solito, si balla e ho sentito una bella prima. Ci possiamo? Grazie. Sto salendo, sto salendo. Ancora non siamo arrivati. Ma ci picchia lunga la via, eh? Meno male che le scale sono comode. Adesso stop, momentaneamente, e riprendiamo dall'alto. Ci siamo. Messo, messo. Eccoci. Eccoci qua. Siamo arrivati. Eccoci qua. Le ho sentite da sotto? E' meno male che sono arrivato per tempo. No, è alto, è alto. Qua su mi sa che si balla? Le ho sentite da sotto? No. No. Pensavo a pezzo. Ne fanno un'altra? Ma come avevano detto? No. Sono piccato a pezzo. Ne fanno un'altra o no? Eh, non so. Ne fanno tutte le altre? Suonate ancora oppure no? Ma Davido, mi sei perso, lo vediamo bene. Non fa niente, l'ho sentita da sotto. Che ti credi? Che non l'ho ripresa io? L'ho ripresa da sotto. Vabbè, invece ne fanno un'altra? Eh. Allora vi lasciamo il posto, intanto torniamo meglio. Se ne fanno un'altra è meglio. E tu vedi? Eri in sopra? Tu hai già letto tutto? Eh, allora, cesta di briganti, tutte e sei, 1934. Eh, grazie. Certo. Voi la salvia tutti lassù, sei, oh. Eh, 1938, tutte e sei. Cesta di briganti. Questo si sta metronico. Vedi? Che queste sono tutte elettrificate? Eh, pure la maggiore, stranamente. No, 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 no. Guarda che in Certosa, in Certosa non hanno elettrificato la quarta, lì ne sono quattro. Niente. Sì, però, in Certosa l'ho fatto solo da fuori, nel 2008. Ce ne sono quattro, che pare, sono tre, una è lassù, mi pare. Sì, ma una è lassù. Però... Sì, scusami. Un po' più grandi di tutti. Eh, ma questa l'ho sentita che mi ricorda il concerto della Certosa, infatti, più o meno come nota siamo lì. Eh, ho fatto un'altra? Ho fatto un'altra? Sì, grazie. Grazie. Dami, d'acqua. Dami, d'acqua. Uh, a te, cari. Dami! Dami! Dami, d'acqua. C'ero tollerato 8 in Catore, quindi... Da dove, dovevo salire a Vigo di Catore perché beh, perché mi è virato. Ma non c'è bravo. No, ma perchè è bravo. Sì, io qualche anno fa ne ho visto. Quando qualche anno fa sta va bene, adesso dicevo. Vesta Quinta Quarta Terza Seconda E prima Da ciò che ho capito ne saranno un'altra E allora aspettiamo Chi va giù, chi va giù, chi va stasciù, stasciù Chi è dentro, è dentro Io vengo in botola Rimango in botola che la prendo da sotto Aspetta, non l'ho più qua Che se no ragazzi qui Ok, giù Io mi metto in botola che qui vi è bene Ed ora dal campanile Della chiesa di San Martino Qui a Casalecchio di Reno A gentile richiesta ci rifanno un altro doppio Fai, fai, tranquillo Divendi Eccole Stai fermo tranquillo Stai fermo Campanile si muove un po', state fermi Ahi AC Non se ne va E standing step Oh Sa Oh Co Che 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 Sì, 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 sì. questa volta, bufette! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!